Siamo a Drezzo, in via Como, dove questa mattina, poco dopo le 5, i residenti sono stati svegliati di soprassalto. Un boato, uno scoppio fortissimo che ha interessato un'abitazione, una casa, che è stata completamente dilaniata dall'esplosione. Quattro gli inquilini, il primo bilancio parla di tre lesi e un ferito ricoverato in seguito alle ustioni. I detriti della casa esplosa sono arrivati fino a 50 metri di distanza dallo scoppio e hanno interessato tutte le abitazioni vicine. L'immobile è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Faloppio, su disposizione della magistratura. Le cause dello scoppio sono ancora in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è una fuga di gas che avrebbe trasformato la casa di via Como 92 in una gigantesca bomba. All'interno una famiglia di quattro persone, il padre Albert Estrupler, originario della Svizzera, canton Turgovia, trasferitosi in Italia 27 anni fa, la moglie, il cognato e il figlio 23enne. E proprio il ragazzo è stato trasportato in reanimazione dell'ospedale Sant'Anna subito dopo l'esplosione in condizioni serie, con ustioni di secondo e terzo grado sul 15% del corpo, in particolare la mano destra, e un trauma da scoppio. Nel pomeriggio è stato poi trasferito in elicottero in Liguria al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale di Genova San Pierdarena. Non sarebbe comunque in pericolo di vita, tutti illesi invece gli altri coinquilini. L'esplosione è stata devastante e ha completamente sventrato l'immobile, danneggiando seriamente anche le case circostanti. Siamo a due case di distanza dall'appartamento dello scoppio, vedete come la pioggia di detriti abbia bucato anche i tetti delle case vicine. Il bilancio, come detto, è di un ferito, ma guardando la casa dello scoppio, ridotta a un cumulo di macerie, il sindaco di Drezzo parla di disastro scampato. Ho usato la parola giusta, poteva essere un disastro perché io mi sono presentato qui proprio di prima mattina, pochi minuti dopo che è successo questa cosa, e devo dire che ho trovato una situazione incredibile. Oltre al danno, la beffa. Tra pochi giorni, il 18 giugno, la famiglia Strupler dovrà pagare la prima rata dell'Imu su una casa che ormai è quasi completamente distrutta. Noi come amministrazione valuteremo se potranno esserci le possibilità che questa situazione possa rientrare in eventuali casi di esenzioni. La protezione civile di Drezzo è arrivata sul posto pochi minuti dopo l'incidente, quando l'area compresa, nel raggio di 50 metri dal punto dell'esplosione, assomigliava allo scenario di una catastrofe. Pezzi di tegola e travi di legno sono volati in aria, conficcandosi nel terreno come proiettili. Noi siamo arrivati, si può dire, nell'arco di 10 minuti perché, a parte la chiamata che c'è stata, è stato anche un risveglio molto violento. Come scenario è stato uno scenario abbastanza pesante perché pensavamo il peggio, invece fortunatamente non è successo nulla di grave, a parte un ferito, il resto tutti in lesi. Via Como è rimasta chiusa per tutta la mattinata. Protezione civile e comune di Drezzo hanno dovuto mettere in sicurezza l'immobile semidistrutto, rimuovendo le parti del tetto e delle fondamenta ancora pericolanti.